Un appello alla Regione, in particolare all'assessore della sanità Luigi Arro e al suo collega del bilancio Raffaele Paci, affinché i 10 milioni di euro stanziati per i progetti di ritornare a casa vengono effettivamente erogati per i piani personalizzati di assistenza ai malati di SLA, alla sclerosi laterale amiotrofica o alle altre patologie degenerative. Questo perché ci sono assistenti personali che da sei mesi non percepiscono lo stipendio, le famiglie con tutta la buona volontà non riescono a sopperire a questo grave ritardo da parte della Regione. Nonostante le difficoltà personali, gli assistenti per spirito di servizio umanitario sono quotidianamente accanto ai loro assistiti. Ma la misura è colma e la situazione sta togliendo loro la giusta serenità che serve per un compito così delicato. Stamattina una delegazione formata da Massimo Buttita e Veronica Pateri ed alcuni familiari di pazienti ha incontrato l'assessore del servizio alla persona del Comune di Nuoro, Valeria Romagna, il dirigente Mario Rosso e gli assistenti sociali, tra i quali Nina Cate. Alla riunione hanno partecipato anche i consiglieri comunali Giovanna Zedde e dell'Eonora Angheliddu. Gli assistenti hanno esposto con grande dignità ma con una giustificata indignazione le proprie ragioni a nome di tutti coloro che spesso lavorano senza stipendio per mesi per dare aiuto a chi deve combattere con la malattia. Nel corso dell'incontro sono state esposte le gravi difficoltà in cui si trovano ad operare dal momento che la Regione non eroga i fondi. I funzionari del Comune hanno chiarito qual è la situazione. Dal punto di vista burocratico è stato sottolineato che il Comune ha compiuto tutti i passi necessari, anche se è emerso nel corso della riunione che in Regione sono state perse tre pratiche individuali che il Comune è stato costretto a inviare nuovamente. L'amministrazione sta cercando di recuperare fondi dal proprio bilancio per anticipare alcuni pagamenti, ma il numero di progetti, una settantina tra attivi in itinere, limita le possibilità di intervento. Quello che non è tollerabile è il muro innalzato dalla burocrazia e dalle leggi che rallentano le procedure e costringono tutti gli anni le persone affette da SLA a certificare la propria malattia come se per la Regione fosse possibile guarire da una patologia degenerativa così grave.